You are live, io sono felicissimo, mi sento, ho questa proprio ondata di adrenalina, no? Ondata di adrenalina che mi arriva e che mi fa sgranare gli occhioni stile pupazzo manga. Tra l'altro hai visto che tutti stanno ridisegnando Sailor Moon in questo momento? Sì, è una spita che non ho capito da chi è partita. Tu lo sai da chi è partita? Ma manco io, no, non lo so assolutamente, qualcuno ha pubblicato il frame originale di uno degli ultimi episodi, il 126, non mi ricordo, di Sailor Moon e tutti i vari artisti che si trovano sulla Twitter, Instagram, Behance, Tumblr, Sfera hanno iniziato a disegnare. Esatto, sì, 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 fantastico. Guarda, saluto Mattia intanto, ecco, è lui il ragazzo di cui ci stavo parlando nel backstage, lui mi ha appena mandato un articolo fichissimo su The Last Dance, ma non ho fatto il tempo a leggerlo, ve lo dovevi mandare un po' prima, ma ci fidiamo Mattia, vediamo se arriveremo alle stesse conclusioni. Esatto. È vero, ce lo puoi dire tu. Comunque io me ne sono accorta di Sailor Moon Challenge, come si chiama, perché l'ho visto da due fumettari che conosco, uno era quello di Recchioni, che ovviamente l'ha fatto stile suo, e uno è Gaetano Longo, che è il disegnatore anche di Black Box, che lo sceneggiatore è Giuseppe Grossi, nostro collega di Movie Player, che se lo chiamo. Ciao Giuseppe, mitico, mitico, mitico. Quindi se qualcuno tra i commenti sa da chi è partita questa challenge su Sailor Moon, ce lo faccia sapere, perché me lo sto domandando da tutto oggi. Ottimo. Allora, io intanto ho preso, nelle stories ho chiesto anche qual è il film sportivo delle persone, quindi persone mi stanno rispondendo. Chi mi vuole seguire su Instagram, chiocciola lucarini jack, così come Valentina Ariete, chiocciola lucarini jack, chiocciola valentina Ariete, e poi se seguite anche il mio nuovo progetto, fumettistico di uno che non sa disegnare, che si chiama Kawaii Brutale, seguitelo, che lì mi sfogo e faccio uscire il mio Mr. Hyde, facendo fare battutine cattivissime ai gattini kawaii. Bellissimo. Ti piace Valentina? Ragazzi, ci piace moltissimo, tra l'altro lo vedo già che Mattia ha postato un gattino, quindi è perfetto. Poi salutiamo anche Garci, che ci segue sempre. David, ciao. E anche David Piccini, che invece ci sta seguendo su Facebook. Perfetto. Grande ragazze, grande. Allora, sapete già, se avete seguito anche la live della scorsa settimana, che è andata in onda tipo mezz'ora dopo, e che abbiamo fatto con il grandissimo Zet, che praticamente la puntata doveva essere questa, ma si è trasformata in una puntata monografica su Michael Jordan, e non poteva essere altrimenti. Perché, se non erro Valentina, correggimi se sbaglio, The Last Dance è diventata la serie più vista su Netflix, non so se è solo relativamente allo sport o ai documentari, ma comunque... In Italia. In Italia? In Italia è la serie più vista di sempre. Sì, sì, ha spodestato la casa di carta, e quindi io vi dico, signori, c'è speranza per il futuro di questo paese. Sì, mannaggia, cioè ci saluto. Eh, so bene la tua... Cioè, speranza, finalmente la qualità, tra l'altro è l'argomento della nostra prima puntata insieme, quindi ormai li voglio un po' bene alla casa di carta perché lo collego a questa avventura di cui sono molto contenta, te lo dico adesso così, a brucia pelo, de botto, come direbbero a Boris. Bene, bene, bene. E quindi, ecco, questa è già una buona notizia, ed è una notiziona, una notizia in sé molto importante, perché in un paese dominato comunque dalle soap o dai telefilm, insomma, non impegnativi, senza nessuna offesa, però, insomma, gli show disimpegnati, le trasmissioni disimpegnate, magari anche giocando sul fatto che in questo periodo, da oltre due mesi a questa parte lo sport si è praticamente fermato, quindi c'è molta fame, anche se siamo un paese fatto di calcio, ok? E in un certo senso io dico anche, fate ricominciare sto calcio, che così magari la gente torna a fare l'allenatore invece che il virologo e invece che il... è l'esperto di rapimenti internazionali, per favore ritrasformiamo questo grande paese in un paese di allenatori, grazie. Fatta questa debita premessa, The Last Dance, prodotto, come abbiamo detto, eccezionale, eccellente, di caratura, direi, incredibile a livello tecnico-artistico, a livello contenutistico, ho registrato qualche... qualche critichina da... dopo magari ne parlerò, dopo che tu avrai parlato degli ultimi due episodi, che io non ho ancora visto, me li tengo lì per gustarmeli, quando sarò completamente felice e tranquillo, perché ho avuto un sacco da fare in questo inizio settimana. Poi ti riporto queste due critiche che sono arrivati da altrettanti due grandi esperti e appassionati da tempi non sospetti della NBA anni 90 e non particolarmente innamorati del Michael Jordan in sé, ma del basket come sport. Allora, The Last Dance dovrebbe essere in materia di studio nella scuola dell'obbligo, scrive Andrea, io guarda che, al di là della provocazione che può sembrare un calember, un... 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 un'iperbole, è un ottimo modo per insegnare lo storytelling, la scrittura narrativa, e quindi, secondo me, in una scuola, se si vuol tenere al passo coi tempi, insegnare anche come si scrive un prodotto di... di intrattenimento, o come funziona la televisione, la grande televisione, i grandi show televisivi, The Last Dance può essere veramente studiato fotogramma per fotogramma e ben riassunto. Vale, ti lascio la parola così magari parli anche degli ultimi due episodi. Sì, allora, intanto ci chiedono se è fatta da ESPN e Netflix, no, è prodotta da ESPN, ma in Italia la sta distribuendo Netflix, quindi il fatto di Netflix è una cosa del nostro paese, credo, cioè in America andrà, sì, su altri lidi. Ed è anche una cosa che l'ha fatta un po' criticare, ma poi ne parlo dopo, vai, vai, vai. Ok, beh, allora, la scorsa settimana complice anche l'entusiasmo di Zetone, che probabilmente era ancora più gasato di me, e vi dico ce ne vuole, perché vi sto rompendo le scatole con questa serie da quando abbiamo cominciato con questa trasmissione. Comunque, ovviamente, gli ultimi due episodi sono proprio catarsi pura, ovviamente, arrivati al grande finale, ci si aspettava il grande botto, e ovviamente è arrivato. Non voglio spoilerare troppo al povero Giacomo che non se ne è visti, ma nel nono episodio c'è la bellezza proprio di quest'opera, perché noi vediamo un canestro decisivo di un membro della squadra che magari aveva meno luce addosso rispetto agli altri, ovvero Steve Kerr, che ce l'hanno presentato durante il corso di tutti gli episodi. Io infatti mi chiedevo, ma come mai Steve Kerr, no? Cioè, come giocatore se lo considerano poco, però c'è sempre, commenta sempre. In realtà Steve Kerr aveva molto da dire, umanamente, anche sulla squadra. Per non spoilerare a Giacomo, perché questa è una cosa che non credo sappiano tutti, però voi che magari in chat l'avete visto sapete a cosa mi riferisco, quando Steve Kerr fa quel canestro decisivo e Michael Jordan, anzi, gli dice no, lo fai tu, la fai tu quest'azione perché è il tuo momento, e voi sapete perché, e poi lui il canestro lo fa, l'ha veramente detto, mio Dio, quest'opera è un'opera immensa, perché il gesto sportivo non è più soltanto un gesto sportivo, ma diventa veramente narrazione, una cosa incredibile perché anche all'epoca non penso che molti sapessero tutta la storia che c'era dietro a quel canestro, no? Uno semplicemente da fan vede quel canestro in un momento decisivo e dice ah, bellissimo, invece no, là c'era proprio tutta una drammaturgia e quindi mi ricollego al discorso che faceva Giacomo, è così che si scrive un prodotto, è così, no? Tu fai fare un viaggio dell'eroe, il cosiddetto viaggio dell'eroe, anche a figure sportive di fatti che uno conosce già, se tu dai una rilevanza drammaturgica a un gesto, eh, quest'opera diventa incredibile, gli ultimi due episodi sono tutti così. Tra l'altro Giacomo, e lo dico anche ai nostri lettori, perché forse non era una conoscenza, io non lo sapevo, pensate che mi hanno mandato mano a mano gli episodi in anteprima, no? E l'ultima settimana, me li mandavano due e due di settimana in settimana, per questo l'avevo già vista io, l'ultima settimana mi era arrivato solo il numero nove, e ho chiesto all'ufficio stampa, ma perché il 10 non c'è? Signori, ma voi lo sapevate? Che in realtà, siccome hanno dovuto anticipare tutto di due mesi in realtà, perché avrebbe dovuto cominciare a inizio giugno la serie ad andare in onda, invece approfittando del Covid hanno anticipato tutto di due mesi, perché era ad aprile, insomma questi matti, le riprese per le ultime due puntate, ovvero la 9 e la 10, le hanno ultimate all'inizio di marzo, cioè quindi quando l'America stava lì per andare in lockdown, e questi ogni settimana, loro all'inizio marzo avevano pronti soltanto i primi tre episodi, e quindi hanno mano a mano, ogni settimana finivano gli altri, quindi c'è un'epica anche fuori dal racconto, anche tecnica, questa cosa mi ha fatto proprio impazzire, non so se tu lo sapevi, Giacomo. No, 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 questo non lo sapevo, mi sembra un trivia, un fax interessantissimo, ma era così, cioè io avevo immaginato che ci fosse stato un grande lavoro, anche una grandissima preparazione, quindi che fosse stato già magari confezionato, invece anche questa cosa di metterci i tasselli mano a mano, mi sembra una cosa produttivamente molto figa, qui mi sembra che qualcuno lo stia scrivendo, sì che non lo avevano. Esatto, lo sapeva. Infatti vi voglio fare una domanda, a voi che l'avete visto, tu vabbè, questo è un piccolo spoiler Giacomo, scusami, ma non è fondamentale. Ma io la storia la conosco, nel senso, da grande appassionato dell'NBA, più o meno, magari non so come l'hanno messa giù, ma la storia di quella stagione la conosco. No, ma infatti spoiler, perché sul lato umano, perché io l'auto umano sinceramente non è che lo sapessi bene, cioè delle imprese sportive, ok, ma qua ci sono delle rivelazioni umane, e mi dici, oddio, su Steve Care soprattutto, io non so se tu sai cosa gli è successo a Steve Care, lo sai, non lo sai, allora non te lo dico. Comunque, molti si erano lamentati che non si fossero mai visti i figli, la moglie, anzi, l'ex moglie di Jordan, che comunque all'epoca erano sposati, gli ha dato tre figli, la moglie non si è vista comunque, quindi questo ci fa capire che forse si sono lasciati abbastanza male, perché là ovviamente il veto finale l'avrà avuto sempre Jordan, quindi se lei non c'è, evidentemente lui non ce l'ha voluta, come ci diceva Zetone, Karl Malone viene nominato, ma non viene intervistato, quindi effettivamente può darsi che ci sia rimasto del distapore, anche lì, c'è però almeno un'apparizione dei tre figli, e quindi vi voglio chiedere, secondo voi l'hanno aggiunta dopo, questa apparizione dei figli, proprio perché la gente si era un po' lamentata, che non si vedesse molto della vita privata di Jordan, oppure erano già previsti, e comunque vedendogli sono rimasta sconvolta, perché i due figli maschi non gli esomigliano per niente a Jordan, per niente, la figlia femmina, la copia, la copia è identica, infatti è bellissima come lui, gli altri ragazzi un po' meno, questo è un commento frivolo. Per me è una cosa che si è notata tantissimo, nei primi sette episodi, che ho otto, quindi praticamente non c'è, e stona quasi, però è anche vero che non c'è nessuna compagna, nessun giocatore, ora è vero che Jordan è il protagonista assoluto, non viene mai menzionata la famiglia, neppure nei filmati da archivio, proprio niente, non c'è nulla, neanche a parte la famiglia, diciamo dai genitori, allora sì, però è un'assenza comunque che, credo ci sia solo, nei primi otto episodi, solo un momento in cui gli passano al telefono la moglie, a lui nei filmati da archivio, tipo gli dicono, perché ti passiamo al telefono, e quando ancora al telefono doveva essere passato, roba, e sì, a mio avviso, non so se era previsto, ma mi puzza forse di toppa messa, perché qualcuno gli ha fatto notare, che poteva sembrare, non lo so, tu come la vedi? Eh, ma anche perché poi, vabbè, è veramente un attimo in cui compaiono i ragazzi, non è una, sai, durante il corso delle altre puntate, tipo con Steve Kerr abbiamo visto, e quella è un'intervista lunga, che hanno spezzettato e diluito, nel corso di tutti i dieci episodi, no? Quindi si capisce che era già prevista, invece i tre ragazzi, i tre figli, stanno messi lì all'ultimo, dicono veramente 20 secondi di battuta, e quindi mi è sembrato un po' una pezza, sapendo poi che veramente l'hanno completata poche ore, prima della messa in onda, mi ha fatto pensare, ma forse hanno voluto rimediare in corner, e comunque ricollegandoci all'articolo che ci ha mandato Mattia, che però non siamo riusciti a leggere, diciamo che questo, Don Mutter ci chiude con una domanda, che non ha proprio tanto una risposta, aiutatemi voi a capire, perché Jordan alla fine dice, ma se a me mi avessero proposto di fare un'altra stagione con i Bulls, per vincere un settimo anello, ma io l'avrei fatto, l'avrei fatto, quindi che ci sta dicendo? Perché invece il proprietario ci dice, no, questi giocatori costavano troppo, quindi Jordan ci sta dicendo che avrebbe giocato una settima stagione, anche senza, cioè diciamo con un compenso minore, ma voi ci credete? Non lo so. No, ma poi come si dice, con i sé, con i ma, la storia non si fa, e col senno di poi sono buoni tutti, cioè del senno di poi sono pieni di fosse, ma sono anche buoni tutti a dire a 30 anni di distanza, rammolliti dal ricordo, oh sì sì, mi sarei prestato senza chissà che cosa. Insomma, non lo so, non lo so se effettivamente sarebbe stata una cosa, così, ecco, mi piace un po' come hanno scritto, no, i commenti che ho passato anche da qui, hanno voluto sfuggire al racconto autobiografico stretto, dove però comunque non si può dire che non sia un racconto comunque biografico su Jordan, dato che praticamente se prendiamo lo screen time, 60% è Jordan e 40% sono Bulls, insomma diciamo così, no, anche perché comunque lui ha condizionato nel bene e nel male in maniera totalizzante la squadra, lui era il giocatore squadra, e essendo stato praticamente forse la personalità sportiva più famosa del mondo, per il decennio dei 90, insomma, perlomeno i primi cinque, il primo lustro dei 90, credo quattro angoli del globo, Jordan fosse l'uomo più famoso, e non neanche lo sportivo. Ma infatti faccio una piccola escursus, nell'ultima puntata dicono proprio che Jordan non solo ha portato al trionfo i Bulls, una squadra che poi non ha mai più vinto così tanto e non aveva vinto così tanto prima, no, niente, ma quando diciamo lui è entrato nell'NBA, l'NBA veniva trasmesso in solo 80-82 paesi fuori dagli Stati Uniti, negli Stati Uniti è molto popolare il basket da noi, come dicevi tu, no, dopo questi anni incredibili, questo decennio incredibile con i Bulls, l'NBA è diventato trasmesso in 290 paesi, cioè una roba quadruplicata, e loro dicevano questo è proprio grazie a Jordan, quindi voglio dire, un uomo che ha anche fatto molto per il basket proprio, certo è che, come dicevi tu, magari ci sono delle ombre sul Jordan l'uomo, però vabbè, forse è anche giusto occuparsi proprio solo del Jordan giocatore, icona sportiva, eccetera eccetera, forse è anche giusto che sia così. Sì, 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 assolutamente, io sono d'accordissimo con te, cioè l'icona sportiva è importantissima, è ingombrante sicuramente anche la persona che ci sta dietro, no, però visto che viene raccontata così nei dettagli, è chiaro che si porta dietro tutta una serie di critiche, no, e anche di valutazioni, per esempio il fatto che comunque sia piaccia o non piaccia, lo sport viene lasciato anche un po' da parte per parlare della componente mediatica e di marketing, che secondo me comunque sono incindibili, e come vedremo poi anche in tante pellicole sportive che noi abbiamo amato, la comunicazione e il marketing dello sport riveste una grandissima importanza, perché come possiamo capire da The Last Dance, lo sport è il 50%, lo sport giocato in campo è il 50%, anche se poi è la cosa definitiva, perché poi chi vince e chi perde si decide in campo, però è il 50% del business ad essere buoni, perché poi tutto quello che ci ruota intorno dai giocatori resi personaggi, dalle comunicati stampa, dai rapporti con la stampa, dai rapporti con i fan, cioè questa cosa che sottolinea Luca assolutamente è vera, senza social e web, Michael Jordan è diventato un'icona, in realtà ricordiamoci che all'epoca in realtà forse avevi meno mezzi di comunicazione propri, personale a disposizione, ma avevi una macchina da guerra comunicativa, che era quella dell'NBA e delle squadre che avevano uffici stampa, PR, televisioni che comunque erano viste moltissimo, non come adesso, cioè la TV è ancora vista, ma c'erano meno canali, c'era un canale di informazione tematici e direzionali, quindi quando qualcuno, un canale ti diceva qualcosa, era davvero autorevole, e Michael Jordan fu raccontato in lungo e in largo, alle volte anche in maniera molto parziale, molto cattiva, perché come Jordan ha anche subito degli attacchi, non indifferenti dalla stampa, ma questo è il bello, perché le difficoltà di un giocatore sono quelle in campo, ma anche quelle fuori dal campo, no Valentina? È un essere umano, quindi sì, per forza, e nel caso di Jordan, poi le vicende umane sono anche abbastanza insolite, perché anche se, poi Giocco, io non ti voglio spoilerare questa cosa, ma poi nell'episodio numero 9, si vede che io non capisco come sia possibile statisticamente, che a due giocatori della stessa squadra, sia successa una cosa molto simile, quindi sappiamo che il trauma personale di Jordan era molto forte, e quindi a maggior ragione, pensate voi, gestire un peso di una pressione mediatica, essendo Michael Jordan, essendo la star del basket assoluta, essendo l'uomo che fa conoscere il basket in tutto il mondo, già questo secondo me era notevole, in più con quel fardello personale, in più quando la stampa poi ti dice, ah ma siccome è già vita azzardo, magari tuo padre l'hanno ucciso per colpa tua, cioè rendiamoci conto, non era facile, come dici tu certo poi. Ma quella parte c'è anche negli episodi precedenti, la morte del padre, quindi sei tranquilla, Sì, 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 sì. No vabbè, sì, è vero. No ma vabbè, la smetto. L'hanno ricriticata, no ma l'hanno ricriticata comunque tanto, anche quella parte lì. Certo i giornalisti, va detto che non ci fanno una bella figura, non tutti, ma diciamo che parte della stampa non ci fa una bella figura. Scusami è arrivato un commento molto corposo, volevo darci un occhio, che dice, secondo me questa serie crea l'idea di Jordan gigante, ma non invincibile. I Bulls in 98 avevano Pippen e Rodman, che sono i migliori del proprio ruolo, a parte Michael in uno sport, che si gioca a 5, nonostante tutto si viveva e si sudava all'ultimo. Molti millennials oggi pensano a Jordan come una serie di divinità, solo con lui che ho la palla in mano. Sì, è vero, sono d'accordissimo ed è giusto così e non ci sarebbe gusto se fosse una serie invincibile. Invece si vede, i Bulls si vede quanto che perdono tanto, cioè voglio dire anche nelle gare, nei play-off, nelle gare delle finali a 7, a 5, cioè si vede che perdono tanto, si vede che Jordan non è ingiornata, ma è così, cioè nessuno è invincibile, no? Giustamente. E quindi credo che anche la prima preoccupazione di Jordan sia quello. Il The Flu Game ci dice altro. Che, vabbè, chi ha visto la serie lo sa, ma lo sai anche tu, perché è diventata storica. Anche Buffa ci ha fatto un video meraviglioso su The Flu Game. Michael Jordan gli viene, si fa nel cuore della notte, e gli portano questa pizza palesemente avvelenata, perché è stata palesemente avvelenata, e lui con la febbre che non si reggeva in piedi, comunque ha vinto la partita là. Poi, infatti, la cosa molto interessante del documentario, secondo me, è che ci dimostra come, oltre il talento, oltre la costanza, cioè che tu stai lì ad allenarti più degli altri ogni giorno, la cosa proprio fondamentale che fa la differenza è la testa. Perché pensiamo a Shaquille O'Neal, Shaquille O'Neal aveva una fisicità incredibile, come capaoccia, se è proprio gestito male, al contrario di Kobe, di cui qualcuno qui nei commenti ci diceva, vogliamo una seconda stagione su Kobe Bryant, che in effetti dovrebbe stare. Ma secondo me, secondo me, visto anche, è impossibile che col successo di questa produzione non ne facciano un'altra simile a stretto giro. Per di più, con il fatto di cronaca di Kobe Bryant, diventerebbe, diventerebbe una celebrazione di un giocatore che comunque è il secondo in linea di successione dopo Jordan per quanto riguarda la NBA. Quindi, non è così remota la possibilità di vedere una seconda stagione di un, magari non The Last Dance, perché quello è il nome dell'ultima stagione dei Bills, ma un altro documentario. Nemmeno The Last Flight. Me ne va. No, speriamo di no, ma sicuramente un altro, cioè, non è possibile che a ESPN non abbiano pensato dal giorno 2 che è uscito della stanza e ha avuto quel successo, che possono fare un prodotto simile dedicato a un'altra delle più grandi star dell'NBA, no, Vale? Sì, sì. Anche se molti dicono, e infatti non è un caso che poi sia lui ad aver preso, diciamo, lo scettro da Jordan, forse anche appunto perché comunque Kobe Bryant non c'è più, ma anche il libro on James è uno da non sottovalutare. Ho visto che c'è un documentario e gira su YouTube molto interessante sulla sua storia e la sua storia è ancora più da sogno americano di quella di Jordan perché lui veramente veniva da un quartiere terribile, comunque Jordan veniva da una famiglia buona, comunque è andato all'università, invece Lebron James ha fatto proprio un miracolo praticamente, da bassi fondi, senza soldi, senza niente, è diventato uno dei più grandi star del basket, quindi anche Lebron James forse se la meriterebbe, anche se c'è già questo documentario, comunque belle storie. Sono d'accordo con te, c'è un altro documentario su Netflix di una delle più grandi promesse della NBA mai sbocciata per problemi proprio di attitudine di testa, cioè Allen Iverson, che non so se tu li conosci, conosci la storia, è bellissimo quel documentario, molto bello, comunque considerato tra i migliori, è su Netflix, ma non so se è Netflix in Italia, se è disponibile o se è quello americano, vi consiglio di dotarvi di una VPN se siete appassionati e di vedervelo perché anche il documentario su Allen Iverson, che tra l'altro dura quindi un paio d'ore, non è una serie, è molto bello. Poi ho visto che qualcuno iniziava a scrivere i suoi film sportivi preferiti, ragazzi scrivete nei commenti, scrivete perché la seconda mezz'ora la vogliamo dedicare solo ed esclusivamente a parlare dei film sportivi e dei migliori film sportivi ovviamente secondo noi, poi io ho messo i miei nelle slide, Valentina sicuramente avrà tutt'altri film molto meglio dei miei, ma no, volevo anche commentare con voi non soltanto a partire da The Last Dance che abbiamo visto avere una struttura narrativa, ora prendo i commenti di Mattia che sono molto interessanti che ha scritto, proprio come dicevi tu, il viaggio dell'eroe ma anche la necessità per forza di problematizzare in ogni puntata, mettere un problema, raccontare un passato, problematico o mettere una difficoltà o raccontare una rivalità alle volte anche un po' farraginosa, alle volte anche over constructed direbbero gli americani, cioè molto costruita e poi ti leggo un commento che ha scritto uno dei più grandi esperti di marketing italiani che si chiama Enrico Marchetto che tra l'altro è specialista dei trigger, cioè delle cose che fanno incazzare e agire le persone e ha detto una cosa secondo me sensatissima a cui anche io ho risposto. Prendo un attimo il commento di Mattia. Allora, che ti aveva girato l'articolo? L'articolo, giornalista sportivo Dario Wismar, esperto di basket che ha fatto la tesi su Lebron, anche secondo lui Jordan ha dato l'ok solo nel 2016 all'utilizzo del materiale girato 20 anni prima perché sentiva minacciate le sue gesta da quelle appena compiute dai Warriors con 72 vittorie che ha spodestato appunto i Bulls magnifici del 96 o il recuperone alle finals di Lebron. Secondo me, allora, è giustissimo l'abbiamo detto e ovviamente Jordan ha anche dato l'ok a nostro modesto avviso ma è quello che è abbastanza lampante vuole pretendendo il final cut e l'ultima parola più o meno su tutto. Le critiche sono rivolte soprattutto al fatto che Jordan oscuri eccessivamente nelle interviste ai suoi compagni ma anche Phil Jackson con uno screen time sì, effettivamente ridicolo da quanto è grande. La storia è raccontata dal punto di vista elogiandolo eccessivamente sì e su questo siamo perfettamente d'accordo. È vero che comunque se tanta gente conosce il basket è per Michael Jordan non potevi intitolarlo solo Jordan il documentario sembra un po' sì, un po' oggi e buche che fanno pari per dare il contentino a tutti ma soprattutto a Jordan non definirei neanche una questione di ego cioè Jordan sì, è uno a cui piace essere rappresentato lo ha dato però alla fine si mette anche in gioco molto insomma molto onestamente ha l'ultima parola su tutto ma insomma tu che ne pensi Vale? No, secondo me sì, da quello che abbiamo detto visto il personaggio secondo me avrà detto pure se io non parlo non si fa come dico io questo documentario non si fa proprio cioè mi pare chiaro mi pare evidente e quindi avrà preteso che magari molti avversari non venissero nemmeno intervistati come Malone che non c'è oppure appunto sì che poi l'ultima parola fosse la sua qua Mattia ci dice infatti per non parlare dove ecco degli avversari che sono stati fatti passare per i cattivi peggio di quelli di James Bond trattamento riservato anche a Jerry Krauss che essendo morto neanche si può difendere sono d'accordo sul fatto di Lebron James l'ho visto scritto da più parti d'accordissimo e guarda secondo me è vero perché c'è una leggenda che se non sbaglio non è una leggenda è una cosa vera viene anche detta un attimo nella serie che praticamente quando lui si era ritirato stava giocando a baseball c'era un rookie un nuovo giocatore che aveva detto ah ma io sono più forte posso battere Michael Jordan quanto mi pare che tanto nemmeno gioca più e lui è tipo è andato lì e gli ha fatto un mazzo così durante l'allenamento facendo vedere no cioè io non sto nemmeno più giocando e ti faccio il mazzo lo stesso quindi siccome non può più farlo oggettivamente con Lebron James ormai non credo ce la faccia nemmeno il divino Jordan a battere un'altra stella proprio perché per l'età perché si è appesantito e allora diciamo forse ci sta che abbia tentato di riprevalere mediaticamente non può arrivarci col fisico allora ci è arrivato col documentario infatti io vorrei un commento di Jordan su Lebron James che fa Space Jam cioè c'è da qualche parte fatemelo sapere non lo farà mai però gli ha fatto vedere che lui a lui gli hanno costruito un campo di basket grosso quanto e lui giocava anche lì pazzesco lui la mattina faceva le riprese e il pomeriggio sera giocava con gli altri giocatori della NBA anche gente che aveva 10-15 anni meno di lui e lui fino alle 10 di sera giocava a basket cioè è una roba per tenersi in allenamento perché stava ancora recuperando preparandosi per la next season allora ti leggo il commento che aveva scritto d'accordo vai poi leggiamo loro e poi parti con le tue slide assolutamente che ha scritto un breve assunto senza spoiler di The Last Dance avversario X gne gne Michael Jordan gne 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 questo era il suo riassunto che secondo me e io infatti gli avevo scritto che avevo detto anche la live praticamente metà degli episodi è strutturata qualcuno fa incazzare Jordan a caso magari per uno sguardo sbagliato alla panchina o semplicemente perché gioca benino put a caso quella sera Jordan diventa una bestia perché ha bisogno di motivi per inventarsi provocazioni e questo lo dice cioè proprio tre episodi se sono proprio strutturati così no? e lui dice e lui dice esatto ecco perché il trigger il trigger e lui dice contraddittori fintissimi per mettere un po' di brio drammi esagerati per esaltare il fall and rise in più un kukoc trattato come un gregarietto qualunque mentre invece è stato uno dei insomma dei giocatori più importanti grande giocatore insomma non solo non solo kukoc cui comunque poi si può dibattere dopo abbiamo dibattuto anche delle stagioni che ha giocato dopo ma è proprio così cioè la sensazione che restituisce a chi è un po' preparato sullo sport e sulla NBA è questa cosa molto una lettura un po' parziale e poi come dicevi anche te questo sparare a zero su tutto e sugli avversari anche Isaiah Thomas viene fatto passare come se fosse è vero che i Pistons erano una squadra dura cattiva ignorante però era una grande squadra era una grande squadra e farli passare come i cattivi di James Bond oltretutto dove Jordan gli viene fatta vedere l'intervista di un ex avversario e lui la guarda e ci ride sopra a me è impastidito un pochettino sono i nezio fare sbruffone sì cioè già c'è l'ultima parola quando poi quando poi e Giacomo è incredibile siamo d'accordo anche su questo allora Scottie Pippen meraviglioso il fascino del numero due meraviglioso ma Dennis Rodman signori Dennis Rodman cioè ma io lo amo quell'uomo è fantastico e tra l'altro negli ultimi episodi si vede anche che lui a un certo punto abbandona l'allenamento così debotto sempre per andare a fare il wrestling con Hulk Hogan cioè io ho detto ma io quest'uomo lo amo e si faceva anche chiamare Rodzilla a me questa cosa mi era sfuggita di Rodzilla e lo amo ancora di più quindi in realtà voglio dire con un Rodman pure che era un grande personaggione che pure secondo me è stato sfruttato poco per il potenziale che ha in realtà cioè ce l'avrebbero potuto far vedere molto di più nella serie ma non l'hanno fatto perché poi se no avrebbe tolto attenzione a sua maestà a Jordan no Rodman è un personaggio che secondo me bisognerebbe fare un ma neanche un documentario un mockumentary cioè una roba dove uno torna indietro nel tempo e trova Rodman da per tu a fare film con Van Damme a fare una serie tv con gli specialisti dove faceva a fare il wrestling cioè tutto ma personaggio totale molto più complesso e molto più profondo di quello che sembra perché Rodman è una persona che aveva bisogno di buttare fuori i suoi problemi e le sue fragilità facendosi spaccare in campo lui l'ha sempre detto cioè io in campo mi faccio ammazzare e mi piace il dolore ovviamente è una persona che ha tanto dentro cioè tanti problemi dentro e li sfoga così ed è in realtà e secondo me esce sempre fuori un Rodman molto più fragile molto più umano molto più tenerone cioè passami queste cose nonostante il verbo si si sono d'accordo lui quando parla è un tranquillone cioè non è cattivo come invece altri secondo me no però va bene allora chiudiamo la parentesi leggiamo loro esatto vai leggiamo chiudiamo la parentesi leggendo questi ultimi commenti sì Gartwork già un po' di tempo fa ci aveva detto The Blind Side non so se definirlo sportivo ma è uno dei miei film preferiti sì come no The Blind Side assolutamente che ha fatto vincere l'Oscar a Sandra Bullock tra l'altro esatto da noi non è mai uscito però purtroppo non al cinema ma non è neanche in streaming vale che tu sappia in streaming forse sì però in sala non è mai uscito purtroppo da noi da noi divenne nodo perché Sandra Bullock vinse l'Oscar come la migliore attrice protagonista poi Giuseppe invece ci dice sì la fu brava proprio nel football americano 10% campo 90% business soldi sponsor questo viene detto molto bene un altro film sportivo che in realtà è su tutto quello che succede extra campo che è Moneyball con Brad Pitt e quello ve lo consiglio perché è un gran film poi questi altri commenti li avevi letti tu frecqua se seguite molto il football a quanto pare anche il football che roba un saluto a quelli della chat di Facebook ciao chat di Facebook dai voi siete grandi allora sì ma questa serie ti fa diventare da subito un esperto di basket a me è capitato con la serie di Formula 1 di Netflix guarda gli esperti basket non lo so perché da molto per scontato cioè per esempio quando si dice il miglior game di 7 magari uno non lo sa come funziona bene l'NBA cioè che ci sono le due coste che si sfidano in 80 e passi partite e poi i migliori diciamo che non viene proprio spiegato nulla il meccanismo dell'NBA delle regole del basket non c'è nulla quindi no ve lo dovete andare a vedere cioè cosa sono i playoff che vuol dire che gli ultimi si sfidano a 7 partite massimo insomma ve lo dovete andare a vedere però non è quello importante secondo me poi ecco questo è molto interessante Gianmarco Vizzini ci dice Cobi si è fatto firmare nell'ultimo anno della sua carriera quindi avranno materiale per girare un documentario e allora è fatta signori io ve lo dico speriamo speriamo davvero si oddio scusa mi sono persa hanno riscritto ok tra interviste aneddoti della sua carriera ok l'hanno tirato via da quell'italiano lo so a maggio mi pare The Blindstein è una storia vera allora vengo dalla live di Rick Dufer perché l'argomento del basket non mi interessava vengo qua si parla della stessa cosa mi dispiace ma adesso stiamo cambiando come vedi anche Rick lo sa come Rick come tutti gli altri youtuber lo sanno quando c'è l'argomento del momento è Michael Jordan il basket ragazzi è questo e noi ci riflettiamo sopra speriamo di dare degli spunti utili infatti proprio a proposito di spunti Giuseppe invece ci dice magari non diventi un esperto ma ti dà lo spunto per approfondire questo sicuro poi dice comunque Malone e Russell non hanno voluto partecipare loro ah grazie Mattia che ci stai dando informazioni preziosissime oggi non che non li ha voluti Jordan staranno ancora rosicando che non hanno visto vinto niente il che è assurdo comunque tra l'altro Malone a un certo punto si vede che va a fare il wrestling insieme a Dennis Rodman una cosa bellissima poi da vetticini secondo me nell'immaginario collettivo delle generazioni più giovani gli Warriors recenti possono pure avere oscurato quei Bulls ma per la percezione che io della NBA anni 90 rispetto all'attuale quei Bulls stanno tanti gradini sopra ma io penso che una roba mediatica anche se siamo in epoca social come quella dei Bulls non ci sarà mai perché c'è stato proprio l'abbattimento di un muro culturale cioè una roba proprio esatto io la butto lì ma secondo me in un uno contro uno tra Jordan e Lebron al meglio della forma vince Lebron attento che Jordan viene a menarti a casa per questa affermazione Jordan può essere forte quanto vuoi ma Lebron oltre alla tecnica discutibile è anche una branda in effetti ma con Jordan era un po' secchietto rispetto agli altri ma non vuol dire cioè tutti scusate arrivo solo ora tranquillo gli dicevano che era anche basso a Jordan perché è 1,98 capito sei solo due metri fai schifo certo davvero qua Ernesto è del nostro fan club Rodman indicaci la via grandissimo seconda stagione subito non a caso NBA significa non basta altro di film sportivi molto bello race per me il primo film sportivo che mi viene in mente da passione di Formula 1 quando avevo 5 anni è semplice Rush avevi 5 anni vabbè cosa? no faccio finta di non aver sentito no no vale tu non hai sentito niente tutto bene allora qua pure ci suggeriscono Rush Tonia Le Mans 66 che è fresco fresco è vero molto bello Rush e vai Giacomo illuminaci adesso con le tue slide preziosissime vai sì 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 e tra l'altro tra l'altro visto che ora stavo preparando le slide chi ha detto Rush che ho inserito comunque poi tra i film che mi ha preferito oggi è l'anniversario della morte di Michi Lauda grandissimo personaggio anche lui grandioso molto ben interpretato in quel film da Daniel Brühl molto bene e tra l'altro un film che non ha artefatto molto la realtà ma adesso ti ho rimpicciolito piccolina piccolina ma adesso rimpicciolito tutti e due perché ho fatto questa slide enorme che ho scritto quando lo sport diventa epico quando è che lo sport diventa epico? diventa epico quando viene compresso nello spazio di un paio d'ore e diventa anche la metafora per qualcosa in più da sempre lo sport è sempre stata una grande metafora una grande parabola spesso di trasformazione delle persone film che toccano lo sport giocato o anche lo sport diciamo così gestito non per nulla qui si vede Bal Durham con Kevin Costner si vede Jerry Maguire con Tom Cruise che ancora oggi viene ricordato pochissimo questo film mentre invece Jerry Maguire è uno di quei film la cui sceneggiatura andrebbe studiata nelle scuole proprio di cinema perché rappresenta tutto ciò che è perfetto nel non so se ti ricordi no Jerry Maguire come no coprimi di soldi esatto lo diciamo al Moro Moro coprici di soldi coprici di soldi qui abbiamo lascio da parte le slide che abbiamo visto l'altra volta con le dichiarazioni di Michael Jordan molto spesso lo sport va oltre lo sport e questo lo vediamo bene nei film ecco perché lo sport diventa un veicolo per raccontare qualcos'altro per esempio in The Blind Side era molto chiara no di che cosa si parlava vale no oltre allo sport giocato che si vede anche poco e molto spesso è la storia di chi lo sport lo deve gestire di chi deve gestire gli sportivi la mentalità che ci sta dietro lo sport inoltre va oltre l'intrattenimento ed entra nel campo politico nel senso più alto del termine nel senso che lo sport esprime valori culturali e morali non per nulla spesso e volentieri gli sportivi quelli più famosi compiono anche delle imprese che cambiano la storia in qualche modo chi ha seguito i programmi di Federico Buffa sicuramente qualche storia se la ricorda ma chi ha seguito la storia delle Olimpiadi si ricorda dei casi eclatanti ok dei pari pugni neri sì sì primo fra tutti primo fra tutti quello quindi è molto è molto importante tenere conto che lo sport non è mai semplicemente sport e lo sport è il spettacolo come dicevamo prima e avevo anticipato quello che avevo scritto nella slide l'evento sportivo è diverso dalla sua rappresentazione mediatica basta pensare appunto a tutto quello che ruota intorno alle partite di calcio o di basket cioè il gioco non è la sua messa in scena anche da parte di attori come i media ok il gioco è molto 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 di più poi neuroscienze on the rocks questa rubrica che ormai è diventata un punto fisso io cerco sempre il punto di vista delle neuroscienze per quanto riguarda l'argomento che andiamo a toccare gli studi scientifici condotti da alcune delle più prestigiose e rispettate università del mondo dimostrano che l'autostima degli appassionati allo sport dello sport spesso è legata alle prestazioni della squadra questa è un frame del film Hooligans con Ilaia Wood che forse ti ricorderai gli Hooligans ovviamente sono un esempio estremo anche un po' distorto se vogliamo ma comunque anche in Italia con le tifoserie con gli ultra cioè lo vediamo spesso anche nei commenti sui social quanto lo sport al di là dello sport giocato diventa talmente un fatto di appartenenza che la stessa persona del tifoso si sente definita dai risultati dai comportamenti della propria squadra è vero? quindi non voglio spoilerare ma c'è una serie tv recente in cui si vede che un personaggio siccome la sua squadra perde 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 sempre alla fine si suicida e quindi si dice hanno perso una volta di troppo e penso ovviamente è un'estremizzazione però chi lo sa chi lo sa insomma ci conduziona molto sono successe anche cose gravi insomma per lo sport che uno non farebbe mai a cose normali se non per un parente forse esatto esatto e quindi riassumendo allora perché ci piace lo sport che poi sono i punti basilari per cui anche lo sport viene trasformato in spettacolo per l'autostima per i soldi naturalmente perché piace al partner o alla famiglia quindi per osmosi tu diventi tifoso di quella squadra di quel personaggio ti viene un po' passato il testimone no dalla famiglia per l'eccitazione che quello sport provoca io conosco persone che alla partenza del gran premi di formula 1 in quei secondi diventano delle bestie o del moto GP in senso anche buono nel senso che sono fomentatissimi tipo tipo me quando quando guardo non lo so un film di di scorsese perché è bello da vedere perché abbiamo detto che comunque lo sport il gesto in campo è bellissimo cioè ci sono dei gol il basket è lo sport spettacolare per eccellenza per antonomasia il calcio il tennis voglio dire guardi giocare Federer o Nadal e scopri la religiosità no cioè c'era questo il saggio di David Foster Wallace sul tennis che è un capolavoro perché espressione naturalmente emotiva ti tira fuori i sentimenti che magari ci sono persone che esprimono i sentimenti sono in relazione allo sport fuga dai problemi del mondo reale perché comunque è intrattenimento quindi ci fa uscire dai nostri problemi e ci fa trovare una dimensione nostra e poi naturalmente c'è il senso di appartenenza cioè tu appartieni a una tribù come sappiamo bene le cose che ci fanno muovere che ci fanno agire che ci fanno palpitare il cuore cliccare qualsiasi cosa è un senso di appartenenza a una cerchia e lo sport quindi piace per questi motivi che sono assolutamente anche nobili e legittimi i film sportivi perché ci piacciono? perché veicolano un messaggio qui credo che questa gif la riconoscano tutti ok? nessuno ce la fa da solo nessuno è infallibile ci ricordiamo quanto sia importante fare affidamento sugli altri che sia la squadra la famiglia il coach il mentore o gli amici i film sportivi ci insegnano che per quanto tu possa essere Michael Jordan avrai bisogno sempre di un coach che mentalmente ti sostiene e di una squadra che è sempre al tuo fianco o in questo caso di un Apollo Creed che diventa il tuo allenatore pure con una maglietta discutibile che lascia il bellioro di fuori avrebbe detto la minonna e ti porta a correre sulla spiaggia ok? quanto è bella questa sequenza di Rocky 3? stupenda stupenda ma nessuno ha ancora detto Rocky ragazzi ma infatti se non scordi mi preferì e poi allora chiudiamo questo e poi facciamo la carrellata dei titoli vai vai vabbè il lavoro duro e l'impegno massimo ripagano sempre quindi queste sono le regole le regole generali che però ci portano come detto a quelle regole di storytelling che funzionano in tutti i film ma che ancora di più funzionano nei film sportivi perché sono una metafora della vita allora ho visto un commento che mi piaceva molto questo ho commesso questo sono molto d'accordo è un film sportivo effettivamente torneo tre maghi torneo tre maghi è sport in quidditch è uno sport meglio del curling voglio dire cioè non c'è confronto ma assolutamente ma io tra la pelota basca e il quidditch è quidditch è tutta la lina poi dice altro qualche altro commento sui film preferiti poi ti leggo anche quelli che mi stanno arrivando su twitter e scusami su allora instagram ogni qua ci dicono questo d'accordissimo questo è proprio un signor film tra l'altro penso il mio preferito di Oliver Stone che è un regista che in genere qua lo dico e qua lo affermo non amo uno dei pochi registi che mi sta proprio antipatico come poetica come sguardo come tutto non mi piace Oliver Stone ma ogni maledetta domenica mi piace molto e sì il discorso di Al Pacino è incredibile poi slide time ci dicono sono andate le slide ma ne arriveranno altre credo poi qua ci dicono rush ha un bel po' di errori storici in realtà per chi conosce bene la storia ad esempio a salvarlo non è il nostro mezzario ma un inglese ecco andiamo oltre non sono così preparata è vero è vero è vero no perché io ho detto che giustamente non era neanche troppo romanzato rispetto ad altri film non è neanche troppo romanzato però chiaro la forzatura per esaltare la rivalità tra tra Lauda ovviamente James Hunt è abbastanza enfatizzata sì poi ci dicono Tim Kapp sempre con Kevin Cost e questo che questo io lo amo questo film è uno dei miei film preferiti in assoluto Million Dollar Baby che film incredibile quanto pianto io non lo riguarderò mai più in vita no siete pazzi io non lo riguarda ciao ciao mocusle capito poi Blue Chips che è bellissimo anche questo sul basket con Nick Nolte che ti dico levati tra l'altro è di William Fretkin Blue Chips è un senior film qua ci dicevano credo i grandi gesti Jesse Owens Berlino 36 esatto Tonia Tonia sono contenta che lo stiate dicendo in molti perché siete molti uomini e pensavo ah vabbè invece vi sta piacendo bravi non avete pregiudizi è un bel film è un gran film ai Tonia io ne so magari c'è gente che dice avveno esperto sui pattini c'è una femmina che schifo invece no i nostri lettori sono molto più avanti è anche un film a casa matto sì tra l'altro eh ma guarda ti dirò ma c'è gente che ancora adesso magari vede una donna protagonista film sul come si dice skate figure come si dice in italiano pattinaggio artistico pattinaggio artistico ma che è ma che è invece un senior film infatti Giuseppe ci dice a Tonia Mancon premio Oscar quello a Margot Robbie sono d'accordo Giuseppe secondo me se lo meritava bravissima guarda lei bravissima bravissima davvero in quel film poi Roberto Kovaschi Pepapo cioè Nick bellissimo questo che chiameremo Roberto come sempre Roberto sì uno dei film sportivi più belli ma poco conosciuto è The Wonderful Loser che racconta un anno di Gregari del ciclismo infatti questo non l'ho visto mai visto grazie lo recupereremo segna segna assolutamente sì coloro che non vincono mai ma che si sacrificano per la squadra assolutamente ah sì bello 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 interessante l'allenatore nel pallone vabbè fantastico l'allenatore nel pallone tifosi with Nino D'Angelo questo un po' meno aspetta ho messo l'Orso of Dogtown tanta roba l'Orso of Dogtown cioè visto che tutti quelli belli li avete sicuramente già inseriti ne dico subito uno bello che è Fuga per la Vittoria bello anche questo con un certo Pelé e due per ridere che sono Sholin Soccer e Le Riserve Le Riserve è bellissimo con chi lui No Le Riserve è un gran film ragazzi Le Riserve è molto molto bello molto caruccio e il maledetto United The Fighter il maledetto United classici Disney sono un sacco Dodgeball lo adoro Chuck Norris del cazzo dirò io tra l'altro ricordiamo Rip Torn scomparso da poco l'anno scorso no? che fa il mitico allenatore che lancia le chiave inglesi se puoi schivare una chiave inglese puoi schivare un pallone che è diventato il mio mantra per mia figlia se puoi schivare Darth Vader puoi schivare anche tuo padre no vabbè sì perché alle volte sai con i figli bisogna essere un po' così bisogna essere un po' duri e ovviamente sono scatenato che va oltre lo sport vabbè cioè Roghi era scultato Roghi era scultato Adriana mamma mia mamma mia Tonia Cinderella Man Lord of the War l'hai detto Wimbledon pure match point match point in realtà non è proprio sullo sport si gioca a tennis si parla della metafora del tennis ma è un'altra roba diciamo che con Allen è un po' così poi quando c'è Scarlett Johansson io non capisco più niente quindi non mi ricordavo neanche ci fosse il tennis esatto appropi dopo correre sport anche il miracola Berna vabbè ma qua state tirando fuori chicche siete preparatissimi il miracola Berna bel film giorni di tuono giorni di tuono ok ragazzi hai già dato dei grandi suggerimenti bravi oh ma nessuno sta tirando fuori il gioco il film col poker ragazze vincenti ragazze vincenti grande con madonna ragazze vincenti sì 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 ragazze vincenti c'è anche Gina Davis bello molto bello grande Gina Davis vai giacca grande allora sì ho messo le slide dei film ovvi che secondo me sono ovvi ma come si vede ce ne sono tantissimi ognuno a modo suo secondo me rappresentano lo sport chi più incentrato sulla squadra chi più incentrato sui perdenti chi più incentrato sul singolo individuo sulla personalità al di fuori ora io ve li butto là poi ne discutiamo allora Rocky semplicemente perché Rocky film su cui nessuno avrebbe scommesso una lira sceneggiato da un ragazzo di belle speranze che aveva fatto forse un porno e di film di serie B con Roger Corman l'esplosione di Sylvester Stallone film che è diventato la quintessenza dei film sportivi con i suoi montaggi con il suo perdente dal buon cuore che perde ma vince cioè un altro grande topos del film sportivo e ha dato il via alla grande stagione della box al cinema anche se ovviamente c'era già stato Toro Scatenato però è tornato un innamoramento della box io penso ai cartoni animati anche a Rocky Joe che è un cartone che mi ha traumatizzato da piccolo e quindi uno Stallone senza un soldo e fa il botto esatto pensate che ovviamente no ci sono tante leggende su Rocky poi Stallone ogni giorno ne racconta una diversa su un film diverso perché è una macchina da aneddoti quell'uomo però è vero che lui rinunciò a una pacchetta di soldi e anche al budget pur di interpretare il protagonista oltre ad aver scritto la sceneggiatura perché non lo volevano ovviamente Stallone perché erano sconosciuto con la bocca e invece lui dimostrò di essere un grandissimo perché Stallone ricordiamolo a cavallo tra i 70 e gli 80 ha fatto praticamente la storia quindi Rocky di John G. Adelson film su cui nessuno avrebbe scommesso e che invece un po' grazie alla colonna sonora un po' grazie al grande cuore di Sylvester Stallone è così ritorno al futuro ha segnato l'immaginario collettivo cioè non devo ricordarvi certo le scene meravigliose dell'allenamento la corsa fra le strade di Philadelphia la scalinata cioè ci sono Adriana cioè ragazzi ma di che stiamo parlando Rocky Rocky è Rocky e sarà sempre Rocky il miglior film sportivo di sempre dopo forse Toro Scatenato altro film sulla box che come giustamente qualcuno ha sottolineato va ben oltre cioè anche questo è un film sull'autodistruzione cioè sul non saper gestire il talento non sapersi gestire al di fuori del ring e il ring visto come appunto un modo per prendere a pugni la vita che ti prende a pugni anche questo film leggendario film cioè incredibile per modalità realizzative per interpretazione di De Niro che è stato preso un po' a modello da tutti gli attori che sono arrivati dopo no Valentina sì sì vabbè quasi tutti gli attori citano Toro Scatenato tra le sue tra le loro ispirazioni esatto Christian Bale avrà il santino di De Niro nel ruolo di Jack Lamotta perché è una delle prime volte in cui proprio un attore ha completamente anche cambiato fisico per prepararsi a un ruolo mise su 20 kg di muscoli sì una roba che adesso è considerata normale esatto prima muscoli e poi ha sbaccato completamente quindi ha sbaccato termine tecnico quindi sì rimane un grande esempio Christian Bale secondo me è quello che più ha imparato da questo modo di lavorare esatto quella scalinata la farò anche io prima o poi mi ci ammazzo mi ci schientro è anch'io tranquillo non è che i titoli di Toro Scatenato sono arte giustamente d'accordissimo con te The Wrestler ma ragazzi cioè io non esiste per me gli Oscar sono sempre una cosa che lascia il tempo che trovano ricordiamolo che quell'anno ce n'erano tanti vinse Sean Penn per Harvey Milk che comunque fu una grande interpretazione niente da dire io amo Sean Penn però quello doveva essere l'anno di Mickey Rourke perché se c'è un uomo che ha fatto anche lo sportivo un attore che oltretutto si è autodistrutto e poi è tornato grazie a un regista che comunque l'ha valorizzato a bestia una sceneggiatura una coprotagonista perché Marisa Tomei la vogliamo glorificare questa donna ok allora The Wrestler è il film perfetto è il film che va oltre il film è lo sport lo so che tanti forse il wrestling non lo considerano uno sport ma è uno sport perché è una performance e secondo me è un film anche questo diciamolo alle volte alcuni dicono che non dobbiamo usare il termine devastante perché è un'esagerazione una stronzata una roba devastante no questo è un film devastante io l'ho visto due volte in vita mia non lo riguarderò mai più perché sto malissimo vale poi non so tu come la pensi ma io la penso così sì sì cioè giustamente Giuseppe ci dice l'Ono e Dora a Venezia 2008 c'è tutto un discorso sul corpo incredibile che poi Aronofsky ha fatto uguale anche se speculare con il cigno nero no assolutamente sempre una coreografia ma una coreografia più aggraziata invece il wrestling è più brutale no quindi la follia dell'ossession esatto due fin gemelli che andrebbero visti insieme e comunque sì sono d'accordo si meritava forse l'Oscar sai perché perché Sean Penn già l'aveva vinto sicuramente potrebbe rivincerlo in futuro ma Mickey Rourke con un ruolo così che è praticamente il ruolo della sua vita è stato un peccato non premiarlo come quando hanno dato l'Oscar a Stallone per Creed o come quando non l'hanno dato a Michael Keaton per Birdman sono quei ruoli che vanno oltre no è proprio un riconoscimento anche a quell'artista a quella carriera alla loro vita quindi è un peccato non averglielo dato sì qui secondo me hanno avuto un po' paura di quello che poteva dire andando sul po' però vabbè dai comunque Mickey sì rinascita personale poi vabbè lui è sempre pasca mina vagante totale però attore che io che amo e che ho sempre amato e che amerò sempre Mickey Rourke come fai a non amarlo allora ho messo un film che non tutti ricordano non tutti conoscono e sicuramente nessuno ha citato ma secondo me l'hockey che è uno sport che da noi non esiste che è assurdo questo film grandissimo film proprio senza filtri con un vecchio appunto e sì buona domani te lo dico addio aiuto aiutami Vale aiutami l'attore in foto dimmi ah ma Paul Newman Paul Newman Paul Newman lo sai che ho le ottime cicloche su queste cose e con un Paul Newman che fa appunto un giocatore attempato che ti fa vedere proprio come era ti fotografava l'hockey di quel periodo storico in cui la gente si prendeva ammazzata nel vero senso della parola Colpo Secco è un grandissimo film sportivo se non lo conoscete andate a recuperarlo Slapshot si chiama in inglese è stato uno dei miei film preferiti all'università perché è matto un altro film matto completamente dalla sceneggiatura alla regia a quello che viene raccontato e in parte è realtà quindi andatelo a cercare questo è un consiglio che vi do così poi Million Dollar Baby che l'abbiamo già citato ci passo sopra perché se no mi metto a piangere qui l'uomo dei sogni signor film questo signor film bellissimo quando Kevin Costner era veramente al top cioè era l'uomo io l'omavo lui ma come si faceva non amarlo cacchio lui era proprio il bravo americano il James il James Stewart degli anni 90 cioè era proprio il decent man no? come si dice e lui ha fatto Balla coi lupi che è nella mia top 10 dei film del cuore assoluti proprio Balla coi lupi lo amo lui ha fatto tanti film sportivi c'era chi ricordava Teen Cup prima abbiamo visto Bal Durham tanti film sportivi ha fatto ma l'uomo dei sogni forse rappresenta l'intersezione perfetta tra appunto la dimensione dello sport come sogno come realizzazione personale come qualcosa di inarrivabile cioè qualcosa di il sogno vero e proprio ecco questo è proprio un film americano anche come qualcosa che lega le persone anche perché tanto squalerare oltre la vita diciamo così dai diciamo e baseball che qui da noi è pressoché sconosciuto come sport a parte dei fan di Elio e le storie tese ma l'uomo dei sogni grandissimo film poi ha messo He Got Game perché cacchio ora al di là degli altri film sui basket Ray Allen grande attore pure è stato bravissimo ma assolutamente sì assolutamente He Got Game grandissimo film comunque questo commento è bellissimo ti prego leggilo dov'è dov'è ho quello definitivo il gladiatore se lo vedo tutto il senso di Anticarmale assolutamente tra l'altro è il ventennale del gladiatore esatto è vero è vero il ventennale del gladiatore vabbè Rush no aspetta aspetta questo io non pensavo che qualcuno l'avrebbe tirato fuori io ti amo Ernesto 86 io adoravo questo film da piccola io non l'ho visto anche il suo ovetto no ti prego non l'ho visto confesso perché è adatto anche ai bambini tra l'altro è tratto da una storia vera parzialmente vera squadra giamaicana di Bob cioè che tu capisci ma cosa che in giamaica non avranno mai visto la neve in vita loro perché veramente è la storia dei runnings dei runner dei velocisti che siccome vengono squalificati per una cosa che non ti sto a dire dicono io voglio andare comunque alle olimpiadi e come ci andiamo l'unica l'unico sport rimasto scoperto ovviamente è il Bob perché non si fa in giamaica e loro comunque vanno a fare le olimpiadi invernali insieme ai terribili svizzeri ovviamente svizzere invece il ghiaccio c'è è un film meraviglioso cioè quindi tu non hai mai visto se anche il suo vetto magico cioè basta non ti sparo quello proprio mi manca la mia cultura personale e chiudo la carrellata con The Fighter che prima qualcuno ha citato un gran film io non amo il Russell come regista però qui ha fatto un gran lavoro poi vabbè Christian Bale Mark Wahlberg che ci ricorda che quando vuole sa essere un bravo attore quando gli gira un po' così quando si dimentica di essere Marky Mark anche al cinema comunque questo è un signor film Karate Kid ragazzi ma di che stiamo parlando e nessuno l'ha citato ma ragazzi Karate Kid questo sì che è un film sportivo che ti parla dei valori dello sport e basta basta tanto chiudiamo perché siamo arrivati al limite però ecco vi consiglio questi documentari Senna Losers Icarus Iverson Asfalto e Pallone molto bello sul calcio di strada francese la generazione dei ragazzini cresciuti col calcio di strada nelle banlieue e nei quartieri e Free Solo che è su Disney Plus su quel pazzo che si è andato a scalare nel parco dello Yosemite come Free Kleinberg una delle cime più impegnative in assoluto c'ha delle riprese che vi lasciano veramente senza fiato chiudiamo proprio in ultimissimo con le serie tv sullo sport perché in realtà ce ne sono tante ma alcune troppo americane e che non sono state cagate in Italia anche giustamente mentre ce n'è una bellissima che secondo me non tutti conoscono Friday Night Lights che invece so tu Valentina ami molto stupenda è bellissima io vi consiglio di recuperarla se non sbaglio c'è tutta su Amazon Prime Video dovrebbe essere su Prime Video assolutamente tra l'altro una delle prime serie in cui si vede tutto il talento di Michael B. Jordan l'attore che poi ha fatto Creed io ho un debole per quest'uomo quindi ogni volta che si può nominare lo nomino ma è veramente una bella serie soprattutto per il ruolo del coach interpretato benissimo da come si chiama lui aveva fatto lo so non mi viene il nome l'ho pure intervistato lui aiutatemi sta anche in Super 8 il papà di Super 8 esatto il papà di Super 8 ma ne ha fatti tantissimi era il poliziotto in Wolf of Wall Street della famosa scena dello yacht era lui che faceva l'agenzia dell'entrata di giuro non mi viene Kyle Chandler Kyle Chandler bravissimo uno di quegli attori che è bravissimi te li ritrovi in tantissimi ruoli diversi ma non ti ricordi cioè o comunque devi andare a cercare come si chiama invece Kyle Chandler bravissimo poi c'è Ballers con The Rock anche quello sul esatto Sports Night che è una serie che parla dei giornalisti che parlano di sport scritta da Aaron Sorkin quindi è il predecessore è il predecessore spirituale di The Newsroom e altre serie quindi se non l'hai vista Valentina Sports Night cerca di recuperarla perché credo non so se è stata la prima in assoluto o se l'ha fatta dopo West Wing già lui però mi sa che è prima è molto interessante e poi Lights Out anche questa sulla sullo sport per quanto riguarda il nostro il nostro discorso siamo arrivati alla fine non so se c'era qualche altro commento Tron su Karate Kid si Tron togli la cera metti la cera sono molto tristi per non averlo citato però si free solo stupendo questi due questi due invece li avevamo nominati dove aspetta tranquillo che li avevamo nominati prima quindi Manibal e Jerry Maguire si ok perfetto non lo so se i film sul poker ci possono rientrare nello sport però no ciao amore è arrivata mia figlia perché vuole che le faccia vedere il re leone e allora ve l'ho promesso e allora dobbiamo andare dai andiamo a cena e poi faccio vedere il re leone no amore vieni qui ho sempre paura mi tocchi passami Simba amore ok va bene allora abbiamo finito ciao ragazzi dai che Adelaide deve venire il re leone grazie alla prossima settimana alle 18.30 esatto mercoledì alle 18.30 sempre qui Twitch e Facebook Lega Nerd ormai lo sapete Pop of the Tops vi annunceremo l'argomento appena l'avremo deciso perché stavolta non l'abbiamo ancora deciso a fra sette giorni ok ciao ciao meglio di Samara ciao aiuto